La manutenzione della pompa di calore è spesso usata come termine, come domanda, come dubbio in realtà da chi il sistema lo vuole denigrare o vuole trovare una delle tante scuse per non si sa di preciso cosa. In realtà parliamone dopo la sigla. Fare la corretta manutenzione ad una pompa di calore, in realtà ad una centrale termica, è fondamentale e come avere a bada, avere cura del motore della macchina, bene o male, sono argomenti molto molto simili. Partiamo da un concetto di base. La pompa di calore, sostanzialmente la centrale termica dedicata al riscaldamento e alla climatizzazione della propria abitazione, necessita del bollino verde che è lo stesso strumento che viene sostanzialmente utilizzato anche per le caldaie. Sì, la caldaia necessita di manutenzione anno obbligatoria. Le pompe di calore in realtà hanno una manutenzione obbligatoria a seconda della tipologia di macchina e della quantità e del tipo di refrigerante che contiene la pompa di calore stessa. Ma in realtà ad avere la necessità di manutenzione non è la pompa di calore di per sé, ma è tutta la centrale termica e tenerla perfettamente funzionante ed efficiente al massimo ovviamente da enormi benefici. Sicuramente a livello di macchina, quindi a livello di pompa di calore, il tecnico abilitato con abilitazione F-Gas deve compilare il libretto dell'impianto. Il controllo è sulla carica e sulla verifica della presenza del refrigerante e qui le macchine a monoblocco in realtà non hanno la necessità della verifica fisica, ma comunque un tecnico lo deve certificare. Le macchine cosiddette splittate, dove sostanzialmente evaporatore e condensatore sono remotati, sono a distanza e sono collegati da tubi di refrigerante, possono aver bisogno di un controllo. Quale? se la macchina è una macchina come la definiamo noi professionale, dove i collegamenti sono fatti mediante saldo-brasatura, in realtà la verifica ha poca importanza perché è stata fatta al momento dell'installazione. Se invece le macchine sono raccordate a cosiddetti bocchettoni, bocchettoni a stringere, comincia ad avere un po' più di senso la verifica. In ogni caso, verifica o no, deve essere fatta da un tecnico abilitato che la certifica, la riporta sul libretto e poi rilascia il cosiddetto bollino verde. E questo sostanzialmente è già importante di suo. Le verifiche più importanti in realtà sono in tutta la centrale termica, quindi nei filtri dell'acqua, perché banalmente l'acqua deve essere trattata chimicamente o elettromagneticamente per eliminare e tenere al di fuori sia dall'acqua tecnica sia dall'acqua sanitaria il calcare e sicuramente ci sono una serie di verifiche, di filtri che magari possono essere semplicemente da pulire o da sostituire a secondo della tipologia dei sistemi che hai e questo è corretto che venga fatto anche dall'utente, ma una volta all'anno meglio se lo fa un tecnico che ovviamente fa il suo mestiere e ti garantisce che tutto è perfettamente efficiente e funzionante. Dopodiché, a seconda della tipologia di terminali, c'è una verifica in più da fare. I due esempi sono molto pratici. Per esempio, se hai radiatori, è importante pulire il cosiddetto defangatore magnetico, cioè il filtro messo nel ritorno dell'acqua dell'impianto che sostanzialmente trattiene le impurità presenti nel circuito di riscaldamento e nei termosifoni. Può essere sporco, può essere no, è importante comunque tenerlo mantenuto. Se invece hai un sistema di riscaldamento a bassa temperatura, un cosiddetto sistema radiante, è bene verificare che nelle testine, nell'impianto di distribuzione, non si formino microalghe. Ci sono un sacco di prodotti ad hoc per evitare che ciò succeda e per evitare che sostanzialmente decada in modo pesante la prestazione del tuo sistema di riscaldamento e di raffrescamento e questo è da verificare. È anche una cosa semplice mantenerlo sempre a livelli ottimali, ma ovviamente ci vuole l'attrezzatura e ci vuole il tecnico. Altra cosa molto importante sono i terminali stessi. Magari hai una ventilazione meccanica, magari hai dei ventilconvettori o dei terminali cosiddetti idronici. Sicuramente è importante controllare lo stato dei filtri e non è detto che basti una visita all'anno di un tecnico. Vedi per esempio le ventilazioni meccaniche centralizzate ma anche le ventilazioni meccaniche puntuali, il consiglio è di mantenere puliti i filtri una volta ogni tre mesi. Magari è buona norma sostituirli almeno una volta all'anno e questo ovviamente dipende da dove si trova l'abitazione, dalla qualità dell'aria esterna dell'abitazione e i fattori sono vari. Bisogna tenerli conto e magari dialogare con il tecnico o con chi te lo installa o chi te lo fornisce per averli sempre ottimali. Ripeto e sottolineo è importante tenere efficiente un impianto di climatizzazione estiva e invernale, soprattutto quando alimentato con una pompa di calore, per mantenerlo sempre a livelli massimi di efficienza. Ricordo sempre per fare un ragionamento semplice, il vettore con cui la pompa di calore trasmette l'energia termica dalla centrale termica, quindi dagli accumuli ai terminali, è l'acqua. L'acqua deve essere opportunamente trattata, l'acqua parliamo dell'impianto, quella che va al terminale, va ai termosifoni, va al sistema radiante, va ai ventilconvettori, deve essere opportunamente trattata per garantirti sempre e costantemente il massimo della resa. Il caso peggiore, quindi se sostanzialmente l'acqua comincia a sporcarsi, cominciano a formarsi microalghe o sostanzialmente il decadimento prestazionale è garantito. Mi raccomando, teniamolo bene a mente e cerchiamo di far sì che ciò non succeda. Banalmente anche il tecnico incaricato della manutenzione controllerà quantomeno anche il funzionamento dei circolatori e delle valvole miscelatrici. Basta veramente poco, ma è meglio verificarlo prima che non trovarsi a piedi durante. I miei consigli quali sono? Beh, è molto semplice. Innanzitutto cercate, con chi vi fa i lavori, con chi ve li installa, di fare un contratto di manutenzione, in modo che annualmente il sistema venga controllato e monitorato per non avere mai pensieri. Non fatevi trovare sprovvisti, non chiamate l'ultimo momento, la manutenzione non va fatta in ottobre. Ottobre è un mese molto delicato perché partono tutti gli impianti di riscaldamento e sostanzialmente i tecnici sono già aberrati di suo. La manutenzione tranquillamente la potete fare anche qualche mese prima. L'importante è affidarsi ad un'azienda che abbia tutti i requisiti, quantomeno il più importante di tutti è il certificato F-Gas che permette al tecnico che fa la manutenzione di certificarla e di rilasciare il cosiddetto bollino verde. Per la tipologia e la frequenza del bollino verde magari non vi serve farlo una volta all'anno. Ci sono alcune macchine che contengono determinati tipi di refrigerante, ne contengono veramente poco o a basso impatto ambientale che magari necessitano di bollino verde ogni due anni. Va benissimo, ma non saltate la manutenzione dell'impianto e se proprio non volete farvelo fare ad un tecnico perlomeno abbiate lo scrupolo di verificare, di mettere a prova la vostra manualità e di verificare circolatori, miscelatori, filtri meccanici per l'acqua, tutte le altre tipologie di filtri contenuti all'interno della centrale termica e buon funzionamento di tutto. Ovviamente date anche uno sguardo all'elettronica. Io, ripeto, vi consiglio sempre di affidarvi ad un tecnico, di stabilire una cifra e di farvi fare queste verifiche. Il prezzo medio indicativo è vero, è più alto della manutenzione di una caldaia. Parliamo di 100-150 euro, la tacca è quella a seconda della complessità dei lavori della centrale termica, più l'eventuale sostituzione sostituzione di filtri molto delicati, terminali, ventilazione meccanica eccetera eccetera, ma ripeto, è fondamentale. Se vi accordate in modo intelligente con un tecnico, una volta all'anno lui farà tutte le verifiche preventive, farà la sostituzione dei filtri e magari voi dovrete solo fare due o tre volte nell'anno in base all'aria, in base a dove è ubicata la casa e in base a n fattori dovrete solo mantenere magari i filtri puliti. Questo è quanto, ma mi raccomando, la manutenzione è fondamentale. Non farla o saltare i vari passaggi e accontentarsi solo della firma su un pezzo di carta, vuol dire che quando il problema si presenta è grave, ve ne accorgete tardi e magari invece di riparare bisogna sostituire. Anche qui vale sempre la regola prevenire è meglio che curare, come il motore di una qualsiasi automobile. Per oggi è tutto, come sempre, se vuoi capire come ottenere il massimo dall'impianto della tua casa no gas, senza commettere errori, senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi sulla descrizione del video e richiedi la mia analisi telefonica. Un saluto, alla prossima, ciao!